Il giorno di tanti anni fa passeggiavo per la piazza con mia nonna e gli chiesi con curiosità per quale motivo la statua della chiesa di San Michele Arcangelo fosse ridotta in così pessime condizioni. Lei mi guardò e raccontò del preguerra, quando ancora c'era la palude, l'acqua stagnante, le zanzare e infine quando scoppiò la guerra. All'inizio non vi era nulla, poi venne la bonifica e furono eretti i primi edifici. I fori della statua erano stati causati dai proiettili di quando scoppiò la guerra e dei bombardamenti. Vi raccontò di un uomo che ricostruì la città da capo e che nel giorno della sua inaugurazione, avvenuta ormai tanto tempo fa, il duce Benito Mussolini diede il nome a questa città, battezzandola con il nome di Aprilia. L'unica cosa che si salvò dai bombardamenti fu la statua di San Michele Arcangelo e tutto questo rimane ancora oggi un fatto spiegato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.